Coroncina della Medaglia Miracolosa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che mossa a pietà delle nostre miserie, scendesti dal cielo per mostrarci quanta cura prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per allontanare da noi i castighi di Dio e ottenerci le sue grazie. Soccorrici in questa presente nostra necessità e concedici le grazie che ti domandiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata, che ci hai fatto dono della tua medaglia, quale rimedio a tanti mali spirituali e corporali che ci affliggono, come difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri. Ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata, che hai promesso grandi grazie ai devoti della tua medaglia, se ti avessero invocato con la giacolatoria da te insegnata, noi pieni di fiducia nella tua parola ricorriamo a te e ti domandiamo, per la tua immacolata concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.